Nasce l'associazione Centro Storico con l'obiettivo di tutelare coloro che sono rientrati in centro. È una neonata associazione, l'Aquila Centro Storico è il nome, che per la prima volta mette insieme però commercianti, residenti e professionisti uniti da problematiche comuni. L'associazione è stata presentata a Palazzo Fibioni ed è presieduta dal fotografo Roberto Grillo, eletto durante l'Assemblea Costituente di qualche settimana fa. Del direttivo dell'associazione fanno parte anche Sara Cavallo e Isabella Magnifico in rappresentanza dei commercianti, Stefano Di Salvatore e Cesilio Gualtieri in rappresentanza dei professionisti, Pietro De Rubes e Carlo Tatozzi in rappresentanza dei residenti. Gualtieri è anche vicepresidente, mentre a De Rubes è stato affidato l'incarico di tesoriere. Nasciamo per il bene della città, ha detto Grillo, avendo cura di tutto ciò che ci accomuna, essendo stati tra i primi ad aver scelto di tornare in centro e dovendo cercare di contrastare quotidianamente una serie di difficoltà, dall'assenza dei parcheggi alle polveri dei cantieri. Il sindaco Biondi è stato disponibile al dialogo, ha detto Grillo. Anzi, un primo slancio l'ha dato proprio lui e noi siamo già al lavoro per avere a breve una serie di punti sui quali cominciare a discutere. Tra questi, ha detto Grillo, c'è innanzitutto il ritorno degli uffici pubblici, il centro fondamentale per la vita della città. L'associazione raccoglie le adesioni di quanti volessero partecipare all'attività alla Sarchiar Gallery di Corso Vittorio Emanuele 188, all'agenzia di viaggi Giromondo di Corso Federico II e alla gioielleria Mastropietro e Quattro Cantoni.